I goldoni arriva, arriva, i goldoni arriva, arriva, è uno dei più bei trattoroni, i goldoni arriva, arriva, è uno dei più bei trattori, non, 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 non non pensate che il golboni riesca a fare queste cose perché li mettiamo robe strane o li abbiamo cammarrato il motore originare lombardini motore lombardini originale